Grazie a tutti Grazie a tutti Io vi chiedo un altro applauso anche per questi da venire accompagnati dalle letture, delle tradizioni e per raccontare come tagliamo quello che sapete più in raponese dai nostri ospiti Vi ringraziamo di essere dimostri con noi fino all'ultimo momento di questo Etna Comics Grazie al cuore di cuore Luizia Lugiale e buoni altra casa Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Guardate qua Grazie Un attimo Grazie Grazie mille Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti